Sibilla Aleramo, pseudonimo di Marta Felicina Faccio, detta Rina, nata da Alessandria il 14 agosto 1876 e morta a Roma il 13 gennaio 1960, è stata una scrittrice, poetessa, giornalista femminista italiana. È ricordata per il suo romanzo autobiografico intitolato Una donna, in cui dipinge la condizione femminile in Italia a cavallo fra il 1800 e il 1900. Figlia di Ambrogio Faccio, professore di scienze, e di Ernesta Cottino, casalinga, era la maggiore di quattro fratelli. Visse a Milano fino all'età di 12 anni, quando interruppe gli studi per il trasferimento della famiglia a Civitanova Marche, dove il marchese Sesto Ciccolini aveva offerto al padre la direzione della propria fabbrica e fu il padre a spingerla, a spingere Rina, a lavorare come contabile nello stabilimento. La sua adolescenza fu infelice. Nel settembre 1890 la madre, sofferente da tempo di depressione, tentò il suicidio gettandosi dal balcone di casa. Nel febbraio del 1892, a 15 anni, Rina fu violentata da un impiegato della fabbrica, che il 21 gennaio del 1893 sarà costretta poi anche a sposare. Prigioniera di una convivenza oppressiva, con un marito abusante e di una vita condotta in una cittadina della quale percepiva il gretto provincialismo, credette di trovare nella cura del suo primo figlio Walter, nato nel 1895, una fuga dall'oppressione della propria esistenza. La caduta di questa illusione la portò a un tentativo di suicidio, dal quale volle sollevarsi attraverso l'impegno a realizzare aspirazioni umanitarie, con letture ed articoli che le furono pubblicati a partire dal 1897 sulla Gazzetta Letteraria, né l'Indipendente, nella rivista femminista Vita Moderna e nel periodico di ispirazione socialista Vita Internazionale. Il suo impegno femminista non si limitò però solo alla scrittura, ma si concretizzò nel tentativo di costituire sezioni del movimento delle donne e nella partecipazione a manifestazioni per il diritto di voto e per la lotta contro la prostituzione. Condusse una vita piuttosto inrabbonda, femminista, pacifista, dopo il 1945 convinta comunista. La scrittrice Sibilla Leramo non si adeguò a ruoli o immagini femminili tradizionali, tanto da avere anche alcune relazioni omosessuali. Ciò motivò Giuseppe Prezzolini a definire l'Aleramo l'avatoio sessuale della cultura italiana. Nel 1913 a Milano si avvicinò ai futuristi. A Parigi tra il 1913 e il 1914 conobbe Guillaume Apollinaire e a Roma Grazia dell'Edda. In questo periodo ebbe numerose e breve relazioni sentimentali come lei stessa raccontò più tardi nelle pagine dei diari. Il primo fu Vincenzo Cardarelli, seguito da altre personalità già celebri o che lo diventeranno. Giovanni Papini, Giovanni Boan, Crevente Rebora, Umberto Boccioni, Salvatore Quasimodo, Raffaello Franchi. Durante la prima guerra mondiale conobbe il poeta Dino Campana che non era al fronte, fu ufficialmente in cura a causa di una nefrite ma in realtà perché già era stata diagnosticata la malattia mentale quando era stato in cura nell'ospedale di Marradi nell'estate del 1915. I due erano molto diversi, lei mondana e frequentatrice di salotti, lui schivo e appartato. Pertanto il rapporto fu assai tormentato, brutale, appassionato e ambivalente dove nessuno dei due soccombette, fatto di fughe, inseguimenti, brevi riappacificazioni e ancora botte, insulti, sputi, morsi, graffi e sesso. L'aleramo lo portò anche da un noto psichiatra dell'epoca e quella visita segnò la fine del loro rapporto.